ed altri 1, 1, 2, 3, 5, concernenti l'inseriva finalizzata al riconoscimento delle endometriosi come malattie invalidante e al potenziamento delle prestazioni sanitarie e delle misure di sostegno economico e sociale per le donne affette da tale patologia. La ripartizione dei tempi riservata alla discussione pubblicata nel calendario avverto che sono state altresì presentate, rimozioni Rondini ed altri 1, 1, 2, 3, 7, Palesi ed altri 1, 1, 2, 3, 8, Nicchi ed altri 1, 2, 2, 3, 9, Vargio ed altri 1, 2, 1, 1, 2, 4, 0, Milanato e Occhiuto 1, 1, 2, 4, 3, che pertendo su materia analoga a quella trattata di mozione all'ordine del giorno verranno svolte congiuntamente. I relativi testi sono in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Onorevole Lorefice illustra anche la sua mozione. Prego. Grazie Presidente. La discussione di oggi ci permette di accendere i fari su una malottia che tantissimi non conoscono ancora, nonostante i numeri impressionanti e il lavoro che associazioni e liberi cittadini fanno sui territori. Parliamo di endometriosi, una malattia tutta al femminile, quella della quale sono affette 150 milioni di donne nel mondo e di queste ben 3 milioni solo nel nostro Paese. Una malattia che si manifesta quando il tessuto, che normalmente è posizionato all'interno dell'utero, l'endometrio, cresce al di fuori di esso. Comunemente coinvolge le ovaie, l'intestino, il tessuto che riveste il bacino. Il tessuto endometriale si addensa, si rompe, sanguina con ogni ciclo mestruale e poiché questo tessuto non ha modo di uscire dal corpo, rimane all'interno. Quando coinvolge le ovaie si possono formare cisti, mentre il tessuto intorno può irritarsi e sviluppare aderenze, cioè un tessuto anomalo che lega gli organi insieme. Le complicazioni più gravi sono la possibile infertilità e il tumore ovarico. Fortunatamente i numeri in tal senso sono piuttosto bassi. Talvolta è asintomatica, ma nella maggior parte dei casi nausea, crampi accompagnano dolori fortissimi, tali da compromettere la salute psicofisica delle donne che ne sono affette e tali da comprometterne la vita privata, lavorativa e le relazioni interpersonali. Questi numeri, numeri molto importanti, sono usciti fuori anche dall'indagine conoscitiva del Senato già nel lontano 2006. Le cause dell'endometriosi non sono ancora certe. Possono essere riconducibili a diversi fattori, come la mestruazione retrograda, i disturbi del sistema immunitario, i fattori inquinanti, tanto per citare alcuni esempi. E poi la cura. La cura di solito prevede due strade, i farmaci o l'intervento chirurgico. Chi scopre la malattia deve convivere spesso con ignoranza, incomprensione, assenza di sostegno economico appropriato. Sì, perché le pazienti si pagano tutte le cure e a fargli evitare ulteriormente i costi dell'assistenza, che sono anche diverse migliaia in un anno, sono i tempi lunghissimi per la diagnosi. Per una diagnosi passano in media dai 7 ai 9 anni. Questo accade sia perché c'è un ritardo nella paziente che va dal medico, dato che il dolore mestruale è considerato normale in alcune culture, ma nella realtà se è peggiora negli anni è da indacare. E sia perché può esserci un ritardo nei medici di famiglia e nei ginecologi né fare una corretta diagnosi. È più che mai necessario aggiornare i LEA, i livelli essenziali d'assistenza, e inserire la patologia tra le malattie invalidanti. Solo così sarà possibile garantire alle donne affette da questa patologia un'efficace tutela, a livello clinico-sanitario innanzitutto, ma anche lavorativo, sociale ed esistenziale. Nel 2012 sembrava che le cose stessero cambiando. La malattia era stata inserita nelle tabelle IMSS per ottenere punti per l'invalidità civile. Ma il decreto che lo prevedeva non è mai stato approvato né firmato dall'allora Ministro della Salute. Si continua a temporeggiare ancora oggi. Il Ministro Lorenzin rilascia periodiche dichiarazioni, ma quelle che servono sono i fatti. Serve una firma per aggiornare quel decreto. Questo è il primo importantissimo impegno che chiediamo al Governo di prendere ed è contenuto nella nostra mozione. Non possiamo trascurare il gravoso onere economico dovuto alle diagnosi, agli esami specialistici, alle cure, completamente a carico delle persone affette dalla malattia. Non sono previste esenzioni. Un esame specialistico può costare anche centinaia di euro. Una cura ha mensilmente un costo non indifferente. E non tutte sono in grado di sostenere un peso economico del genere. Prevedere l'esenzione del ticket sanitario per esami specialistici e per l'acquisto dei farmaci, nonché la riduzione dei tempi d'attesa per poter usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, è più che mai necessario, perché la salute è un diritto sancito dalla Costituzione italiana e nessun cittadino può essere lasciato solo. Chiediamo un impegno concreto a sostegno della ricerca scientifica, fondamentale per arrivare ad una diagnosi precoce e certa. Oggi, per avere una diagnosi, occorrono in media, come ho già detto in premessa, nove anni. Troppi. Perché la malattia nel frattempo progredisce. Servono iniziative di aggiornamento e formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari, ma anche campagne di sensibilizzazione e informazione sulla malattia rivolte ai cittadini. Lo chiediamo perché siamo convinti che la consapevolezza, l'informazione e la prevenzione sull'endometriosi, rappresentino lo strumento primario per combattere la patologia. Altro impegno previsto dalla nostra mozione è l'istituzione di un registro nazionale che permetta di raccogliere e analizzare i dati clinici e sociali della malattia. Per facilitare tale attività, le regioni dovrebbero trasmettere periodicamente i dati relativi alla diffusione della malattia nel territorio di competenza. Senza un registro nazionale non è possibile indicare con certezza quante donne in Italia sono affette d'endometriosi. Gli unici dati che possediamo sono basate sulle cartelle cliniche degli ospedali. Così come senza questo è molto probabile che il Governo continui a trovarsi scuse per temporeggiare su tutto il resto, quindi sul riconoscimento della malattia, sull'invalidità e sull'esenzione. Ricordiamo che lo stesso Ministro Lorenzin aveva annunciato a mezzo stampa l'istituzione di un registro nazionale. Queste le sue parole. Prevista l'istituzione di un registro nazionale. Era il 25 giugno del 2015. Da allora è passato quasi un anno e ancora niente. Infine, siamo convinti che occorre sostenere lo studio, la ricerca sull'endometriosi e valutarne l'incidenza sul territorio nazionale. Per questo motivo chiediamo al Governo di impegnarsi a trovare delle risorse per istituire un fondo a ciò dedicato. Nella mozione prevediamo che le risorse vengano ripartite secondo il principio della trasparenza ad enti pubblici di ricerca sulla base di graduatorie realizzate da un'apposita Commissione Ministeriale. E ancora, da non sottovalutare, interventi per salvaguardare le donne sul fronte lavorativo, perché la loro vita è fortemente compromessa dalla malattia, che impedisce di poter lavorare almeno cinque giorni al mese. La Lorenzin ha fatto promesse da quando è Ministro. Oggi ha la possibilità di trasformare queste promesse in impegni concreti, approvando la nostra mozione, nella quale sono racchiuse le legittime richieste di tre milioni di donne. Dire no a questi impegni significa perdere credibilità al cospetto di chi crede ancora che lo Stato sia davvero garante dei diritti dei cittadini. Vado alle conclusioni, Presidente. Concludo rivolgendomi proprio a voi, che sedete tra i banchi del Governo e della maggioranza. Ora, io non so se vi è mai capitato di parlare con qualcuna di queste donne del cui destino stiamo discutendo ora in quest'Aula. Se l'avete fatto, avrete avuto modo anche voi di percepire quanta forza c'è in loro. Sono tre milioni di donne, non mi stancherò mai di dirlo, che con determinazione e coraggio affrontano le difficoltà quotidiane, con una luce speciale negli occhi che non può non arricchire chi ha la fortuna di incontrarla. È la luce della speranza che noi oggi, in quest'Aula, possiamo trasformare in realtà. Se questa mozione giunge oggi a discussione, è merito. Loro, innanzitutto, che hanno dialogato con tutti noi per raccontarci il loro mondo, hanno parlato con tutti, consapevoli, loro per prima, che i diritti non hanno colore politico. Queste mozioni sono un'opportunità e auspico che tutti sapremo coglierla. Il nostro Paese ha mille difficoltà, ma ci sono delle priorità di fronte alle quali non possiamo continuare a far finta di niente. Grazie. La ringrazio, onorevole Lorefice. Iscritta a parlare, l'onorevole Dincecco, che illustra la sua mozione. Prego. Grazie, Presidente. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi. Parliamo appunto di una patologia infiammatoria cronica, l'endometriosi, a più alta prevalenza tra le malattie ginecologiche. È fortemente oggetto di studio in questi ultimi anni. Colpisce nei Paesi occidentali il 5-10% della popolazione femminile in età riproduttiva, manifestandosi soprattutto in età fertile tra i 25 e i 35 anni, più raramente prima della pubertà e dopo la menopausa, anche se la letteratura internazionale pone l'accento negli ultimi tempi sull'età adolescenziale. Dati più recenti, infatti, registrano che quasi il 40% delle donne affette da endometriosi riferiscono la comparsa dei primi sintomi ad un'età inferiore a 15 anni e oltre il 25% ad un'età compresa tra i 15 e i 19 anni. In Italia ci sono almeno 3 milioni.